Bella, Lollo, saluta! Guarda, dove sono? Dove stai? Aspetta, aspetta! Infame! Un po' dentro! Perché mi ha spostato da viso? Aspetta, ti raggiungo! Riesci? Eh, mi mancherebbero tre Dylan! Sto, ho caccato! Hm! Da-da-da-da! So! Akuya no kitchen! mi sa che proprio è stata bella come partita terzi eravamo ho colazione salata perché vi siete dimenticati oh c'è gente e dobbiamo scannarli a metà tutti oh non andare alla casa non andare alla casa c'è una coppia c'è ci sono tre coppie in la coppia c'è poi Sì, l'ho preso io l'asso! Sì, l'ho preso io l'asso! Non ci dici due io, già due! No dai, scudo, beviti! Sto scudo non si faceva bene! Due chilesi pisi lemon squeezy ho fatto! Non c'è nato nessuno! POMPA! POMPA! Un mini shield, però avevo appena preso lo scudo, penso a te! Mi do il medikit! Magnum! Ho trovato la magnum eh frate! Però mi serve! E mi serve come tipo pompa! Poi dopo te la do! POMPA! POMPA! Dove? E dimmelo! Come lo vuoi? Del nonno oppure? Aspetta mi sparano! Pro del nonno! Vieni da me! Corri da me! Dalla casa mi sparano! Io so! E il tuo popolo del nonno è qua! Io so! E' dalla casa che mi spara! Io so! Il tuo popolo del nonno è qua! Io so! Sì di dentro! Aspetta! Mi ha beccato! Ho capito! Grazie tot! La magnum! Eh... Dieci ne ho! Ok ok! Andiamo! Andiamo! Andiamo a pigliarlo a questo! Che mi sto sparando! Sì mi sembra! Mi sembra di sì! A vedere sì! E' sulla casa! Io li vado da davanti! Tu spara di giù! Mi sto facendo sparare perché almeno... E' sul tetto eh! Mi sta pusciando! Mi sta pusciando! Mi sta pusciando! Mi sta pusciando! Spara fai qualcosa! Mi sta pusciando! Corri! Y. Il tetto è tuttissimo! Eh, lo ho sentito! Aiuto, 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 aiuto! Vai, vai, molto No È forte questo qua? Si Sta pushando Occhio, c'era Marco, aiuta, 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 aiuta Eh, arrivo, arrivo Mi devo dare una benda almeno Come minimo Due, due, due mi servono Mi servono per forza Se no se mi spara qualcun altro Arrivo Arrivo, ok, M4 blu Aspetta Ok, sta arrivando Qua c'è la magnum blu Te la porto Sì, vabbè Però ho una benda sola Non ne ho altre Ok, buono Ti lascio anche un mini shield Ma era bravissimo questo Era bravo Sì, era abbastanza bravo Ah, tolano Dove hai la rivolta? Ah, tieni Colpi pompa quanti ne hai te? 20 Io ho 8 Io ho 8 Però va bene, va bene Ah, colpi magno Revolver Chiamala come vuole Ok, io faccio un po' di materiale Giusto per Non rimanere a secco Quanti medi hai? No, è 93 Tu? Vabbè, tieni Allora, 107 Io adesso le ho Faccio un po' di materiale Intanto vieni verso Dima Quanto materiale hai? Quanto? Materiale hai? E ho 135 di legna 30 di ferro E 30 di pietra Ok, io sto 280 di legna Ma so dove andare a farne tanta Ed è anche in safe quel posto là No, no, non è in safe quel posto là È vivo Beh, però ne faccio un attimo un po' qua Vabbè, a me mi prende Ma tanto c'ho una bella Poi mi ricordo Mi richetto 8, vai L'arrivo? Guarda, guarda, guarda Eh, ma dove sei Lollo? Madonna Eh, Lollo sei Ti uccide un problema Perché io sono lontanissimo Io c'ho 3 kill adesso Vieni verso anche un po' te di me Vieni verso di me, Lollo Ok, buono Oh, anche te hai 3 kill Oh, yes Oh, ma quant'è l'ho Bomba, 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 Lullu di tutto Mi lasci qualche cosa? Qualche munizione, qualche materiale, qualcosa Quanta legna hai? Niente Legna, ok Ok, niente Due medici, Marco, vieni Anche uno qua Eh, oh ma ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Hai mini shield da darmi No, no, beh, vedi Un caso Ok, sì, sì, va bene Tengo io il medikit Ok Tu qua, eh, se c'è il medikit c'è un'altra Qua, qua c'è roba che mi può interessare Ma in realtà io farei il problema Quanto hai? Eh, 266 Qua, 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 qua Hai colpi cieco? Eh, sì, 12 Tieni No, no, ce l'ho Ah, ce l'ho Se l'ho Non te lo vedi Vabbè, sì, dai Ce l'ho Se l'ho Se trovi mini shield Ah, quanti colpi Pompei 81 Si, cacchi, me ne dai qualcuno che hanno 10 Sì si vai 22 thanks tanto più uccidendo si trovano e quanti vari 87 tu 120 vabbè vabbè io faccio un attimo spiace che faccio un attimo come si prende a me ehi demo io di legno 600 no io di legno 400 7 occhio che ti arriva la salsa oh distributore qua qua c'è l'ulto distributore non comune dove c'è l'ulto mi lascio munizioni e roba varia ehm l'ho lasciato la pubblicità ma Marco se la vuoi si 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 la magnum si si ma questa non è la magnum mi sono pesante eccoli si la non scesi ma te dove sei? sembrava fossi sopra l'albero non so perchè non ho accorto manco io manco io la forse ci sono i mini shield lì in mezzo al lago eh non ti conviene non ti conviene perchè sono solo la su me la farò ah no allora no vieni facciamogli il giro vieni vedi di qua li passiamo noi di qua e poi li andiamo ah così in mezzo al lago aspettami a pushare che se non è un casino aspettami eh aspettami che pushiamo insieme di pompa ci sparano? no no non erano noi ma sono sopra il tetto non lo so non l'ho capito bene no no dove stanno la? aspettami andiamo andiamoci non gli sparare non gli sparare lasciali perdere così li arriviamo da dietro e non se lo aspettano ok a terra l'ho visto l'ho visto con la terra ok a terra ok a terra ok a terra ok a terra cosa c'era? un po' di roba ma niente di che c'era c'era lanciarazzi che questo scuso me lo figlio è divinato lanciarazzi le tue 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 no i jump no no la 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 no ma anche l'entrato vabbè mando l'ultimo missi stasera vabbè vengo anch'io stiamo andando verso pinnato gli occhi o c'è gente sopra no hanno il vantaggio dell'altezza aspetta lì oh tienili distratti 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 dai schifo di albero aspetta che l'albero mi ha fatto baggare distratti mannaia ho queste costruzioni sta passando occhio da me da me due l'ho spedito giù l'ho lanciato giù l'ho lanciato giù l'ho nero è roma aiuto 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 ai medici di qua si si non è lì più ma l'italia io voglio voglio lo siano dal palettino io no e non mi lasciamè detto proprio se non riesco non riesco con la caccia di marco Che cacchio stiamo facendo? E' leggendaio? No Ma non riesco se fado mai Ma infatti Questo vuoi inizi a tormentarmi Eccola Eccola Oh Oh Vai 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 Ma sei No Annaccio No La granata impulsi potevo usare 5 kg, quanti kg? 5 Eravamo 10 kg Il Giurato Adesso Se ci comporti bene magari siamo Ah Io faccio quello che per me Madonna Questa è la mia Mi ha dato un'altra La mia La mia